Sindacati a TR Group trovano un accordo sull'elenco dei lavoratori da inserire riservandosi di rivedersi i primi di febbraio per ratificare quanto detto. Il confronto è avvenuto in provincia al tavolo delle relazioni industriali, un confronto sulle problematiche attinenti alla fase della ripresa aziendale dopo l'ingresso della nuova proprietà Massi e Proietti. A presiedere la riunione questa mattina lo stesso presidente Walter Catara supportato dall'assessore alle attività produttive Escio Vannucci. Per le organizzazioni sindacali c'erano Antonio Liberatore, Giampiero Dozzi e Gianluca Di Girolamo. Catara ha aperto l'incontro ribadendo la volontà dell'amministrazione di continuare a monitorare con attenzione e impegno le iniziative che stanno caratterizzando questa fase aziendale. Ma i sindacati hanno rilevato una serie di criticità, dal passaggio delle commesse ai criteri di riempiego dei lavoratori del bacino ATR e per le nuove assunzioni fino alla richiesta di informazioni sulle prospettive e strategie aziendali. A questo proposito Walter Proietti e Primo Massi hanno evidenziato le difficoltà derivanti l'iter amministrativo e decisionale che prevede numerosi passaggi, quali richiedono tempi e modalità non sempre compatibili con le esigenze aziendali. La proprietà però ha assicurato di stare compiendo tutti i passaggi necessari a garantire una piena ripresa dell'attività. Per quanto riguarda assunzioni e riempiego di personale, l'azienda ha dichiarato di voler proseguire secondo gli accordi sottoscritti con i sindacati e si è impegnata a chiedere un elenco dei lavoratori in cassa integrazione, garantendo che la ricognizione delle esigenze avvenga in forma congiunta con i sindacati.